Il dominio austriaco sulla città di Trieste è stato plurisecolare e la sua impronta è ancora oggi evidente sia nelle architetture sia nelle usanze gastronomiche, che evidenziano la sovrapposizione delle tre componenti etniche dell'impero asburgico, mitteleuropea, balcanica e latina. Il primo motivo di interesse della città viene dal caffè, o per meglio dire dai locali che lo dispensano assieme a memorie storiche e letterarie, da Svevo a Joyce a Saba. Le prime segnalazioni vanno ai tre locali che attornano alla centrale Piazza Unità d'Italia, Tommaseo, degli specchi e tergesteo, eleganti e mondani. Diversa è l'atmosfera del caffè San Marco, nella non distante Via Battisti, che porta direttamente a Vienna, con la sua boiserie scura e una grande profusione di ottoni. Poi il caffè Pirona, nel più esterno largo Barriera vecchia, che oggi si appresa soprattutto nel suo ruolo di pasticceria, con una rassegna di dolci tradizionali, culminante nella poderosa Sacher viennese. Quanto alla ristorazione, un'istituzione cittadina sono i buffet, locali molto alla mano, che servono carni bollite e luganeghe de Viena, vale a dire Wüstel e Affini, con ovvio contorno di crauti e salse. Molto caratteristiche anche le birrerie, sempre in zona. Venendo ai ristoranti proviamo a imbastire un menù tradizionale. Prosciutto cotto con il rafano, poi iota carsolina, ossia minestra di fagioli, crauti e farina da polenta, o knodeln, gnocchi di pane e formaggio, quindi goulash, spezzatino di manzo alla paprika, o stinco di vitello al forno, infine struder di mele. Di fronte alla città si scorge Muggia, borgo istriano, che conserva una piazza di perfetta immagine veneziana. L'escursione è motivata anche dai buoni locali di pesce, dove si incontrano la tradizione veneta e quella slava. Quanto ai vini, il carso triestino per combinazione di suolo calcareo, clima marittimo e ceppi di antica tradizione offrono produzioni molto particolari. Il rosso terrano e il bianco Vitovska sono le due realtà di spicco. Alla prima è dedicata anche una strada del vino, che da Opicina fino a Sistiana tocca ben 21 trattorie tradizionali. Istituzione tipica del carso è lo Smizza, l'osteria che deriva il nome dal periodo di otto giorni, Osem in isloveno, durante i quali, in epoca asburgica, per imperial decreto nel 1784, i contadini avevano il permesso di aprire le fattorie alla vendita delle eccedenze di vino e di prodotti alimentari. Questi ristori stagionali, sorta di agriturismi antelitteram, si incontrano in tutto l'altopiano. Merita specifica menzione Monrupino, luogo di produzione del gustoso prosciutto carsolino e dei rari formaggi Tabor e Monteret. Sulla costa si fa tappa Grignano, dove l'attenzione è monopolizzata dal castello di Miramare e a Duino, tra i luoghi più suggestivi dell'Alto Adriatico, con la celebre passeggiata Rilke. Di nuovo in città, acquisti a chilometro zero si possono fare al mercato contadino di Piazza del Ponte Rosso.